Inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza oggi all'Aquila alla presenza del professor Intelisano che ha tenuto agli allievi un Alezio Magistralis. 1.400 allievi presenti nella scuola di Coppito, vera eccellenza nel campo della formazione, un terzo degli allievi sono donne. Oltre ai tre tradizionali corsi per formare futuri marescialli ne esiste anche un quarto, riservato quest'ultimo a personale già in servizio, personale che decide di diventare maresciallo. Al momento a questo corso partecipano circa 200 finanzieri. A fare gli onori di casa il comandante della scuola, il generale Michele Carbone che ha ringraziato il comandante in seconda della finanza presente oggi all'Aquila, il generale di Corpo d'Armata Giorgio Toschi. Il generale Carbone ha ricordato l'innalzamento della didattica negli ultimi anni grazie anche a docenti universitari qualificati e a magistrati che collaborano con la Guardia di Finanza. Carbone ha avuto parole di stima anche per il professor Antonino Intelisano, procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione che ha voluto condividere con la scuola aquilana la giornata d'inaugurazione con una prolusione più che autorevole.